buonasera a tutti sono francesco di fabbrica dei segni e anzitutto scusate per ritardo abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico ma insomma tutto risolto quindi siamo pronti per per la diretta di oggi come al solito rubo due parole per raccontare di fabbrica dei segni fabbrica dei segni è una cooperativa sociale che si occupa principalmente di inserimento lavorativo di persone con svantaggio tra i tanti progetti c'è anche fabbrica dei segni editore che è il progetto appunto qui in qualche modo prendete parte anche voi con la diretta di questa sera è un editore a tutti gli effetti quindi ci occupiamo di pubblicare giochi giochi e libri principalmente dedicati a bimbi con bes con con dsa o comunque strumenti didattici tutto ciò che riguarda il mondo diciamo così dell'educazione e questa sera siamo sono in compagnia di nicoletta la stella del centro per lo sviluppo delle abilità cognitive che saluto è qui e buonasera nicoletta e soltanto due indicazioni prima prima di partire come al solito ormai già lo sapete molto bene le domande le potete tranquillamente scrivere nei commenti le faremo poi le pubblicheremo poi alla fine alla fine della diretta risponderemo a tutte o alcune a seconda di quante di quante ne arriveranno e una seconda piccola nota io adesso saluto con voi nicoletta poi sparisco per qualche minuto perché imposterò il piano di lavoro per farvi vedere insomma un gioco che di cui parleremo stasera quindi buona serata a tutti buona formazione e nicoletta lascio la parola a te grazie francesco allora noi siamo anche noi una cooperativa sociale centro per lo sviluppo delle abilità cognitive ci occupiamo di potenziamento cognitivo su vari vari tipologie di persone dai bambini agli anziani e abbiamo iniziato con il metodo foyerstein abbiamo poi proseguito con altre metodologie come il paps per esempio che è di derivazione dal metodo foyerstein o l'ultima nostra sperimentazione che sta andando anche molto bene il metodo brainer x che arriva appunto dagli stati uniti e siamo i primi in italia ad aver portato questo nuovo allenamento cognitivo che è in buona parte in digitale ed è preceduto da un test che si abbiamo già presentato varie volte questo test e questo programma anche con fabbrica dei segni e dentro questo nostro lavoro sul potenziamento cognitivo da 45 anni ci dedichiamo all'educazione parentale perché abbiamo avuto parecchie richieste di assistenza ai genitori che sono in educazione parentale ricordo una brevissima cosa che avevo già detto la volta scorsa che in italia è legalmente possibile a richiedere l'educazione parentale perché ci sono i genitori che sono autorizzati ad andare presso la propria scuola di residenza a richiedere di occuparsi personalmente dei propri figli e per quanto riguarda l'istruzione e semplicemente assolvono in questo modo l'obbligo scolastico e caricandosi loro appunto l'istruzione dei propri figli e alla fine dell'anno dovranno fare un esame presso una qualunque scuola paritaria o statale per dimostrare le competenze dell'anno scolastico che hanno svolto con i loro genitori e ultimamente abbiamo parecchie richieste per da parte di genitori che sono un po' disorientati da da questo caos che sta purtroppo avvenendo nel mondo scolastico a causa della pandemia e quindi alcuni di loro ci chiamano per sapere come è possibile fare homeschooling cioè educazione parentale in un contesto non solo protetto ma anche creativo ed originale ed ecco perché con fabbrica dei segni abbiamo cercato di rispondere già con il con la diretta facebook dell'altra volta e con la diretta facebook di oggi dove in quella di oggi vi presentiamo anche uno strumento molto concreto e molto originale per fare homeschooling questo per questo motivo abbiamo messo questo titolo il benessere nell'istruzione di l'istruzione nel benessere perché l'educazione parentale deve essere così cioè deve essere un momento interessante e gioioso per apprendere con i propri genitori e il gioco che questa sera francesco vi farà vedere ha proprio questo obiettivo quello di dare apprendimento in una situazione di benessere quindi se adesso andiamo avanti con le slide creiamo la premessa di questa attività che tu poi ci farai vedere allora noi proprio ieri abbiamo pubblicato nel nostro blog www.sviluppocognitivo.it un articolo poi seguiranno anche i riferimenti bibliografici di questo articolo sulle nostre slide dove abbiamo cercato di spiegare perché è importante giocare con i propri figli e in questo contesto di questa diretta spieghiamo anche perché è importante utilizzare anche il gioco all'interno dell'educazione parentale e abbiamo trovato questa citazione molto interessante il gioco è un contesto privilegiato per favorire lo sviluppo progressivo di competenze cognitive socioemozionali indispensabili anche per il successo scolastico allora faccio anche un collegamento a questa bella citazione a quello che feuerstein ci ha sempre insegnato cioè che la personalità è come una medaglia trasparente con due facce appunto che si richiamano l'aspetto cognitivo e l'aspetto emotivo sono due facce che si richiamano della stessa medaglia appunto trasparente perché una diciamo realtà si riflette nell'altra e una realtà va a condizionare l'altra quindi se noi emotivamente stiamo bene anche cognitivamente diamo molto e al contrario se cognitivamente sappiamo di valere molto perché ci sentiamo competenti anche emotivamente stiamo bene e quindi è molto importante nel gioco cercare di sviluppare sia le competenze cognitive che emotive perché creano questo buon equilibrio nella personalità tramite il gioco vengono sviluppate numerose abilità ne abbiamo scelte alcune che poi tra l'altro saranno anche nel molte di queste saranno anche visibili nell'attività che vi farà vedere poi francesco la capacità di regolazione emotiva perché noi stiamo giocando non da soli ma con gli altri e quindi impariamo anche a comportarci con gli altri in un certo modo a rispettare il turno per esempio saper perdere se perdiamo e anche a rispettare delle regole evidentemente che sono all'interno del gioco poi noi apprendiamo delle strategie quindi più giochiamo più facciamo un certo gioco e più diventiamo competenti nell'utilizzo di quel gioco e nell'utilizzo anche delle strategie che ci permettono di giocare bene di divertirci giocando e anche di apprendere ovviamente se stiamo facendo un gioco che ha delle finalità di apprendimento poi sviluppiamo nel gioco l'abilità di problem solving perché ci domandiamo come possiamo fare a vincere prima domanda che ovviamente in tutti i giochi i bambini si fanno come possiamo fare ad avere questa soddisfazione o come possiamo bypassare determinati ostacoli per arrivare al nostro obiettivo che è portarci a casa una bella soddisfazione all'interno del gioco e l'autocontrollo sicuramente è un'altra delle delle dimensioni che andiamo ad apprendere attraverso il gioco proprio perché come dicevo prima ci sono delle regole da rispettare ci sono gli altri che devono avere anche il loro tempo per giocare e per creare le loro strategie di di gioco la capacità di tollerare momenti di frustrazione perché per esempio bisogna saper perdere io ad esempio ricordo uno dei miei ricordi di infanzia è che ero una bambina che non sapeva perdere quando giocavo e ho imparato a saper perdere giocando con gli altri perché perché gli altri mi prendevano in giro perché non sapevo perdere e per me questo è stato un momento molto importante perché ho capito che vincere nel gioco non è così fondamentale la cosa più bella è stare con gli altri quando si gioca e la capacità di interazione quindi anche la capacità di mettersi in relazione con gli altri magari anche all'interno di un gioco di squadra la capacità di creare delle sinergie vincenti o delle sinergie proficue all'interno del gioco il pensiero analogico che è quello che ci permette di stabilire dei collegamenti tra degli elementi che magari sono anche apparentemente lontani tra loro ma che in realtà sono avvicinabili e sono anche se troviamo dei collegamenti giusti ci portano al raggiungimento dell'obiettivo quindi sono assolutamente strutturabili per raggiungere un obiettivo comune con gli altri o anche per noi stessi andiamo avanti con la prossima slide eccoci allora alcuni consigli pratici per i genitori lì vedete che abbiamo citato anche la bibliografia da cui abbiamo preso questi suggerimenti e che è pubblicata anche nell'articolo del blog che abbiamo nel nostro pubblicato proprio nel nostro sito ieri sera immaginando poi di collegarlo questo articolo a questo a questa diretta facebook di oggi allora naturalmente stiamo parlando di gioco all'interno di un contesto di educazione parentale dove il gioco diventa un sostituto magari del libro di testo e quindi si impara in una maniera molto creativa molto originale e come abbiamo detto divertendosi cosa possono fare i genitori in educazione parentale che sfruttano il gioco come momento di apprendimento sicuramente è una buona e ottima possibilità per motivare il bambino al gioco con premi complimenti non ci sono le punizioni ma per questo perché c'è il divertimento nel gioco e noi possiamo inserirci nel setting di gioco con delle emozioni positive e quindi è un buon momento in cui siccome tutti siamo contenti magari ci viene anche più spontaneo incoraggiare o fare complimenti o dire delle belle parole ai nostri bambini cose che magari non faremmo così spontaneamente nella vita quotidiana quindi il gioco ci muove anche ad essere spontanei nell'espressione dei nostri sentimenti più positivi nei confronti dei nostri bambini poi possiamo all'interno diciamo del gioco proporre anche delle dei compiti delle attività partire dal gioco per poi proporre altre cose che diventano dei compiti delle attività e possiamo lavorare molto sulle regole le regole del gioco sono poi anche le regole della vita nella vita ci sono le regole come ci sono le regole anche nel gioco nel gioco è molto utile promuovere la verbalizzazione perché in qualche modo viene da sé se io voglio raggiungere un obiettivo mi esprimo per raggiungere diciamo attraverso anche il verbale il mio obiettivo quindi c'è una verbalizzazione abbastanza fluida sia tra i bambini che tra gli educatori che giocano con i bambini e i bambini possono anche vedere come gli adulti si esprimono per giocare quindi è un buon momento per diciamo essere anche copiati nel modo di parlare intendo come adulti e poi lo vedremo anche questo schiama modeling più avanti parlerò di questo ulteriormente all'interno del gioco noi possiamo aiutare i bambini ad elaborare dei concetti nuovi che appunto come dicevo prima partendo dal gioco possono poi diventare concetti che si utilizzano per esempio anche nei compiti c'è la possibilità all'interno del gioco di far sì che il bambino possa avere tempo per pensare per riflettere su come creare delle strategie o su come coalizzarsi magari con altri bambini all'interno del gruppo a seconda del tipo di gioco per poter vincere e in ultimo si possono favorire dei nuovi stimoli con materiali nuovi molto creativi modalità di gioco molto creative molto più diverse che tendono ad incrementare tutte quelle che sono le abilità qui abbiamo scritto motorie sensoriali ma mi spingo a dire anche le abilità cognitive e adesso francesco se tu ci vuoi far vedere questo gioco che ha un nome particolarissimo molto bello orrori nell'orto allora eccolo qua sistema un attimo ce lo spieghi io poi certo farò il mio contributo scondivido un attimo la presentazione eccoci qua e vuoi che lo ingrandisco di più nicoletta o si vede direi di sti se si può ingrandire di più dovrei riuscire vediamo nel dettaglio è meglio se no lasciamolo così devo fare così ecco bravo eccoci eccoci allora questo è gli orrori nell'orto un gioco come diceva nicoletta di fabbrica dei segni direi che che il titolo ricorda ricorda già insomma abbastanza bene di cosa di cosa parliamo appunto parliamo di ortografia eh tra l'altro all'interno della scatola eh trovate anche questo questo volume che oltre a dare le le istruzioni del gioco eh da anche insomma molte indicazioni sia sulla creazione del gioco che sulle modalità di utilizzo e una infatti una delle delle attività eh menzionavo prima prima il titolo eh parte proprio da dal titolo stesso quindi ci sono mh dei delle piccole attività che mi hanno ricordato molto i commenti di prescrittura ragionata in realtà eh sono eh segnalati nella guida come prima di iniziare e appunto eh chiediamo di prima di iniziare la partita eh consigliamo di di provare a a incuriosire i bimbi o gli studenti se parliamo in questo caso di homeschooling eh appunto partendo dal titolo quindi fare delle ipotesi magari sul senso di questo titolo quindi cosa perché orrori e magari non errori ok se stiamo parlando di ortografia piuttosto come piuttosto che creare un ponte eh con la propria esperienza emotiva di di errore ok quindi il gioco parte addirittura prima dell'apertura della scatola l'attività parte prima dell'apertura della scatola eh adesso vado ad aprirla con voi così vi faccio vedere un attimo i contenuti allora all'interno c'è un tabellone che è questo adesso lo lo apriamo insieme poi eccoci qui poi ci sono tre mazzi di carte il mazzo rosso il mazzo blu adesso li metto li metto un po scompigliati ma giusto per farveli vedere e il mazzo verde che è questo poi abbiamo delle pedine come come in quasi quasi tutti insomma i giochi giochi educativi di questo tipo è un dado ok la componente fondamentale in realtà di di questo gioco sono proprio sono proprio le carte come vedete ci sono tre tipi tipi di carte diverse e la prima attività sono le attività del mazzo verde questo mazzo contiene esercizi mirati alla riflessione sulla regola ortografica quindi lavoriamo sulle doppie lavoriamo sugli accenti lavoriamo sull'apostrofo lavoriamo sull'h sono che sono tutte diciamo così del degli errori o degli errori ricorrenti nel diciamo così nello studio dell'ortografia per il bambino poi abbiamo le attività del mazzo rosso che invece contiene delle attività motorie e di svago ok sono le attività un po più legate alle attività di paragrafismo alla manualità eh alla motricità fine insomma tutto a tutto questo mondo scrivi con il corpo piuttosto che ci sono anche delle delle carte aiuto che servono per una modalità di gioco di gioco cooperativa ok eh anticipo che poi lo condividerò sul tra i commenti che c'è anche una piccola versione print and play del del gioco gli orari nell'orto poi ve la linko in modo che potete eventualmente andare a visionare anche qualche carta in più eh l'ultimo mazzo invece è il mazzo blu eh le carte del mazzo blu invece eh sono un po particolari perché non vanno lette eh dal insomma dal giocatore in turno ma vanno lette dagli altri giocatori al giocatore in turno e queste sono carte che invece lavorano sul potenziamento dell'attenzione e della concentrazione e della memoria abbiamo ad esempio attività di spelling piuttosto che vediamo se ne trovo qualcun'altra memoria di lavoro ok sono tutte attività più più legate appunto alla memoria e alla e alla coniezione e la particolarità di di questo gioco ma come di tanti altri giochi educativi è che si può anche un po' modulare la difficoltà cioè se troviamo degli spelling come ad esempio in questo caso degli spelling magari troppo difficili li possiamo andare a mettere da parte ok per andare un po' a semplificare il gioco o magari a togliere completamente l'attività dello spelling se magari non si vuole lavorare eh espressamente su quello ok la modalità di gioco in realtà è molto molto semplice si parte dal via che in questo momento non vedo è questo ok e niente si tira il dado si va alla prima eh casella rossa essendo che è uscito il rosso e allora in questo caso ho pescato ho una carta aiuto fossi capitato sul verde ad esempio avrei dovuto fare questa questa attività quindi i pasticci del signor del signor spezzetti leggi in modo corretto quindi abbiamo una una frase magari non la vedete benissimo però è una frase tutta divisa in sillabe e va valetta diciamo così unendo ad esempio in questo caso la parola papà ma tenendola staccata dall'articolo quindi il papà ritorna in macchina ok bisogna leggerla in questo modo e ci sono in realtà diverse diverse modalità di gioco ve lo faccio vedere c'è la variante cooperativa ad esempio che è molto interessante perché vengono utilizzate le carte aiuto che sono queste per aiutare i compagni o le persone che stanno che stanno giocando con noi che magari sono in difficoltà sono un po' più indietro di noi ok poi ad esempio c'è anche un'altra variante una variante attenzione questa magari ve la lascio ve la lascio scoprire insomma e questo è il gioco nicoletta non so se sono stato chiaro o se avete qualche se hai magari tu qualche informazione in più da chiedere se ho magari ho messo qualcosa sì allora intanto possiamo magari anche dire il nome dell'autrice di questo ah certo sì mi sono dimenticato questa cosa è molto importante è un gioco di Livia Hilling e di Maria Giulia Cataldo ah le autrici ecco sì giusto le autrici sì sono due e tra l'altro sono tutte e due autrici che fanno parte di Abipsi che è una cooperativa sociale che ha sede anche lei nella nostra zona che ci sta aiutando ci aiuta ormai da qualche anno a certificare diciamo così i nostri giochi quindi va a scovare le potenzialità logopediche o le potenzialità cognitive insomma tutto ciò che sta dietro a un gioco ecco no ho tenuto anche al fatto che tu dicessi appunto parlassi delle autrici di questo bellissimo gioco perché c'è il profumo del metodo Feuerstein dentro questo gioco ci sono tante funzioni cognitive che loro hanno messo in questo gioco richiamando il metodo e io le ringrazio molto per questo lavoro così prezioso e ne ricordo alcune allora intanto una premessa nel metodo Feuerstein noi vediamo le funzioni cognitive in ingresso quindi c'è una ci sono delle funzioni cognitive diciamo delle abilità cognitive che riguardano l'input la fase dell'input cioè quando le informazioni entrano dentro di noi poi ci sono le funzioni cognitive in elaborazione quindi quando queste abilità cognitive noi le mettiamo in atto c'è tutta una parte di funzioni cognitive che riguarda le abilità che vengono esercitate in azione diciamo quindi vengono elaborate e poi c'è tutta la parte delle funzioni cognitive che riguarda l'output quindi il momento in cui le informazioni una volta che sono entrate dentro di noi sono state elaborate dentro di noi attraverso il processo dell'elaborazione escono da noi e quindi vengono comunicate e vengono esternate o in gesti o in parole ecco per esempio questo gioco funziona molto su una funzione cognitiva dell'input che è la percezione confusa e generica che in realtà qui viene affinata proprio perché bisogna stare attenti agli errori a come è lo spelling delle parole piuttosto che promuove una funzione cognitiva importantissima dell'elaborazione che è il comportamento comparativo perché richiede di confrontare appunto delle sillabe confrontare delle modalità con le quali si scrivono determinate sillabe determinate parole e dentro nel comportamento comparativo in modo particolare viene sollecitato il discrimine fine che è diciamo una sottocategoria del comportamento comparativo cioè quella capacità di guardare finemente i particolari anche molto simili per distinguerli tra loro e qui il discrimine fine è esercitato moltissimo perché dobbiamo distinguere ciò che è giusto da quello che è sbagliato cioè quello che è ortograficamente giusto da quello che ortograficamente è sbagliato ulteriormente come dicevi tu si lavora molto sulla memoria e sull'interiorizzazione e anche sulla capacità di fare delle ipotesi di come si potrebbe rispondere relativamente alle carte che prendiamo ai passi che dobbiamo fare per continuare il nostro gioco dobbiamo ipotizzare delle strategie dobbiamo ipotizzare delle attività dei movimenti durante il gioco e anche con gli altri bambini queste funzioni cognitive come interiorizzazione piuttosto che pensiero ipotetico stanno tutte nella fase dell'elaborazione direi che è un gioco estremamente importante per anche come tu giustamente hai detto lavorare sugli errori dentro tutto il programma di arricchimento strumentale che ha creato Ruben Feuerstein ci sono diversi strumenti per strumenti intendo gruppi di schede in cui andiamo a lavorare sull'errore l'errore è molto importante all'interno del metodo Feuerstein perché ci permette di capire come poterlo evitare quindi noi nelle schede del metodo Feuerstein andiamo a capire come possiamo riconoscere gli errori conoscendone la causa e conoscendo le caratteristiche dell'errore ecco, conoscere la causa degli errori conoscere le caratteristiche degli errori nel metodo Feuerstein ci permette di evitarli e il mio modo di vedere questo gioco richiama moltissimo questi spunti del metodo e io ringrazio le autrici per aver messo questa parte importantissima della valutazione degli errori come un modo per anche risolverli per gestirli e per evitarli diciamo all'interno di questo gioco che richiama moltissimo diciamo quelli che sono i principi del metodo Feuerstein su come l'errore può veramente insegnarci qualche cosa di nuovo quindi anziché vedere l'errore come qualche cosa di negativo lo possiamo vedere come qualche cosa di positivo e nel metodo Feuerstein l'errore è il primo passo verso il successo proprio perché c'è stato l'errore sappiamo cosa non dobbiamo fare per non sbagliare più e io credo che in questo gioco questo aspetto positivo è estremamente visibile adesso magari possiamo procedere con le slide così diamo ulteriore spessore a questa proposta ludica che facciamo ai genitori in homeschooling ecco allora questa ecco andiamo magari nella slide successiva allora questa è una proposta che noi abbiamo estrapolato da tutti i prodotti di fabbrica dei segni ce n'è uno più bello dell'altro giochi, libri ma anche nei prossimi martedì avremo modo di vederli fabbrica dei segni secondo me è un repository di attività ludiche o anche libri che possiamo trovare per i nostri bambini per i nostri studenti che vanno benissimo per delle attività in educazione parentale oggi però ci siamo focalizzati su uno dei loro giochi che si presta molto bene ad apprendere nel gioco soprattutto per i bambini della scuola primaria quali sono i vantaggi dell'apprendere nel gioco? intanto che noi apprendiamo in un modo speciale perché apprendiamo divertendoci e quindi questo già permette una permanenza nel tempo degli apprendimenti perché abbiamo appreso in un momento in cui ci siamo divertiti in cui siamo stati bene in cui abbiamo sperimentato del benessere poi nel gioco abbiamo la fortuna anche non solo di imparare dei contenuti ma anche di imparare le relazioni con gli altri quindi abbiamo scritto saper perdere è una delle attività che riguardano le relazioni con gli altri ma anche la cooperazione con gli altri durante il gioco è estremamente importante nel gioco si sperimentano anche delle sensazioni corporee perché ci si muove, si devono muovere anche le mani come vi faceva vedere Francesco prima in questo gioco c'è la motricità fine in gioco ma si fa lavorare anche il cervello e tutto questo sempre divertendosi ci sono dei giochi dove ci si muove di più dei giochi dove ci si muove di meno però comunque il corpo se voi andate a leggere anche la letteratura che parla del gioco come momento di apprendimento trovate in qualche modo sempre che il gioco è abbinato in qualche modo al movimento sia che riguardi la motricità fine che la motricità grossa ma in ogni caso i giochi hanno sempre a che fare anche con dei movimenti corporei che completano gli apprendimenti e poi nel gioco noi possiamo essere creativi anche se ci sono delle regole che ci blindano per fare il gioco tuttavia possiamo esprimere la nostra creatività e anche un po' il nostro essere il nostro modo di essere dentro nel gioco nel gioco gli errori non diventano una fonte d'ansia come per esempio possono essere a scuola quando siamo a scuola magari un errore diventa una fonte d'ansia mentre invece quando facciamo un gioco come quello che ci ha mostrato Francesco prima dove addirittura l'errore è una delle colonne portanti ecco lì gli errori vengono vissuti in modo giocoso e quindi possiamo anche un po' prenderci in giro quando sbagliamo però questo ci porta anche a riflettere per non sbagliare nel gioco abbiamo già detto si impara a rispettare il proprio turno e poi c'è una situazione di felicità nell'apprendere perché stiamo giocando e nello stesso momento stiamo anche apprendendo andiamo sulla slide successiva eccoci ecco allora abbiamo voluto vedere il gioco come un'occasione per sperimentare il cooperative learning diciamo che il gioco cognitivo il gioco d'apprendimento come quello che ci ha mostrato Francesco può essere un'ottima occasione un'originale occasione per fare del cooperative learning o l'apprendimento cooperativo o come si chiama nel metodo Feuerstein mediazione del sentimento di condivisione chi conosce il metodo Feuerstein sa che Ruben Feuerstein ha elaborato 12 criteri di mediazione sono 12 strategie per interagire in modo proficuo con quello che si chiama il mediato cioè la persona con la quale stiamo interagendo e portarlo ad apprendere attraverso delle strategie mirate bene una di queste strategie mirate è il comportamento di condivisione che è in buona sostanza il cooperative learning ma comunque anche il cooperative learning come capacità di interagire con gli altri e di dare il nostro contributo sociale nel gruppo o di attingere dal gruppo elementi che possano far crescere la persona nel cooperative learning come anche nella mediazione del sentimento della condivisione di Feuerstein c'è la turnazione come un elemento educativo la capacità di aspettare il proprio turno ad esempio e c'è anche la capacità di fare la nostra parte dentro il gruppo affinché tutti godiamo dell'obiettivo che vogliamo realizzare insieme ecco molti studi menzionano il cooperative learning come una strategia per degli apprendimenti particolarmente efficaci noi siamo andati a guardare questo libro in questo libro a scuola senza zaino che vi consiglio di leggere perché è un ottimo libro per una scuola alternativa originale come speriamo avvenga dopo questa pandemia o durante questa pandemia visto che questa pandemia ha anche sollevato nel mondo scolastico la capacità di rivedersi e di rivisitare le strategie per per educare quindi speriamo che anche questo libro possa essere un buon contributo ad una revisione complessiva del modo di educare delle persone ecco in questo libro noi abbiamo abbiamo letto che per costruire il cooperative learning prima di tutto si consiglia di cominciare a creare un rapporto tra coppie di bambini prima di tutto facciamo imparare suggerisce questo libro a stare in due quindi in coppia a lavorare per poi passare a creare gruppi sempre più numerosi dove evidentemente anche le relazioni diventano più complesse e più articolate e poi è molto importante per favorire il cooperative learning creare degli ambienti adeguati dei materiali avere dotarsi di materiali adeguati nel caso dell'homeschooling strategie molto creative e molto originali anche nei materiali che si utilizzano come per esempio questo gioco che abbiamo presentato questa sera e tutto questo deve essere fonte di progettazione perché il lavoro di gruppo non si improvvisa deve essere pianificato progettato e soprattutto bisogna cercare di creare l'humus più fertile perché ci sia una buona interazione tra pari anche nel metodo Feuerstein abbiamo rilevato più volte che la mediazione dei pari cioè l'insegnamento reciproco tra i pari funziona moltissimo soprattutto nelle situazioni dove c'è magari opposizione con l'adulto o magari non c'è una buona relazione con l'adulto ecco i pari sono sicuramente uno stimolo importantissimo per lavorare bene quando magari ci sono degli ostacoli con gli adulti oppure siccome tra i pari si crea la competizione è normale che ci sia attraverso la competizione si mettono in gioco le abilità personali in maniera più spinta e manifesta perché si vuole competere si vuole andare sopravvaricare l'altro in qualche modo anche nel senso positivo evidentemente quindi far vedere all'altro quello che sappiamo fare o comunque dare il meglio di noi proprio perché gli altri ci guardano e interagiscono con noi all'interno del gruppo è molto importante aiutare i bambini a imparare a gestire gli strumenti di lavoro che naturalmente come dicevamo prima devono essere scelti in maniera molto oculata e strategica da parte di chi crea il cooperative learning andiamo sulla slide successiva ecco allora in questo libro viene ad un certo punto proposto il modello dell'artigiano questi due autori sono stati bravissimi a descrivere questo modello a porlo in questo in questo loro testo perché ci dà veramente degli spunti molto interessanti allora intanto la teoria del neurone specchio di cui abbiamo già parlato nei webinar precedenti abbiamo anche già ripreso parlando della metodologia foie se neanche del metodo brainer ex di cui abbiamo parlato credo sia abbastanza conosciuta in buona sostanza ultimamente si è scoperto che attraverso l'imitazione noi apprendiamo moltissimo quindi noi impariamo ad imitare gli altri rielaboriamo le informazioni che catturiamo dagli altri che sono per noi i modelli e li adattiamo alla nostra persona e poi cerchiamo di copiarli e di interiorizzarli e quindi diciamo così che attraverso l'osservazione degli altri impariamo a comportarci in un certo modo ad avere determinate come possiamo dire abilità che magari prima non esercitavamo in maniera in maniera fruttuosa gli altri possono insegnarci a farlo questo possono insegnarci ad esercitare in maniera fruttuosa delle abilità essendo per noi il modello che le esercita e dicevo questo modello dell'artigiano è molto interessante e io ho voluto sposarlo al gioco all'interno del diciamo del webinar di questa sera che riguarda l'homeschooling perché è vero che all'interno di questo testo questo modello viene presentato come un modello per apprendere quindi diciamo che è un modello che si propone agli insegnanti per insegnare ma a mio modo di vedere no torniamo sulla slide la penultima ecco questa grazie a mio modo di vedere questo modello dell'artigiano non è solo utilizzabile dagli insegnanti adesso lo vediamo brevemente per insegnare bene a scuola e in maniera estremamente efficace ma a mio modo di vedere questo modello dell'artigiano lo possiamo anche prendere per utilizzarlo all'interno del gioco cognitivo per esempio un gioco come quello che vi ha mostrato prima Francesco perché ci dà delle linee guida che sono quelle cinque che adesso vado a commentare interessantissime per far sì che il gioco diventi un momento di cooperative learning estremamente efficace allora intanto vedete che un primo un primo momento di questo modello è l'organizzare il preparare faccio una premessa che ho dimenticato di fare perché si chiama modello dell'artigiano perché l'artigiano voi sapete lavora in bottega e crea un'opera evidentemente all'interno della sua bottega quindi l'opera in questo caso è l'obiettivo che stiamo portando avanti tutti quanti per il quale tutti stiamo lavorando e in questo caso se sposiamo questo modello dell'artigiano al gioco è il nostro gioco il gioco che faremo con gli obiettivi che ci poniamo per poterlo fare e allora prima di tutto noi dobbiamo organizzare e preparare il gioco come l'insegnante prepara e organizza in maniera estremamente scrupolosa dettagliata la sua attività affinché tutto sia perfettamente fruibile per i propri alunni e interessante e intrigante per i propri alunni nello stesso modo chi desidera educare attraverso il gioco deve prima di tutto organizzarsi nel gioco quindi ad esempio guardare insieme la scatola guardare insieme le istruzioni lavorare insieme per farci delle domande sulle istruzioni magari non spiegare noi le istruzioni del gioco ma organizzarci affinché per esempio attraverso il pensiero ipotetico che abbiamo menzionato anche prima i bambini si facciano delle domande su quali potrebbero essere le regole di questo gioco o se nelle regole del gioco c'è scritta una determinata cosa come mai ci sarà scritta una determinata cosa nelle regole del gioco cioè non diamo tutto per diciamo come lezione frontale ma cerchiamo piano piano con delle domande di far scoprire di intrigare i bambini a capire quali potrebbero essere le regole del gioco quindi in questo caso organizzare anche la presentazione del gioco cercando di stimolare i bambini alla curiosità per capire le regole i materiali che stiamo mettendo a disposizione come verranno utilizzati i materiali e ogni bambino che materiale avrà e perché lo avrà per iniziare il suo gioco questo è l'organizing poi c'è il modeling cioè vuol dire che l'educatore che fa questo gioco è colui che mostra che fa vedere che prova lui stesso a fare il gioco davanti ai bambini lo illustra in pratica è un modello da copiare per giocare bene è colui che ci fa vedere magari anche le strategie per vincere cosa passa nella sua testa quando vuole vincere quando vuole cercare di utilizzare una determinata strategia per vincere o quali sodalizi potrebbe fare con gli altri in alcuni giochi per far sì che il gioco diventi vittoria magari per una certa squadra cioè quali strategie bisogna mettere in piedi per far sì che il gioco possa diventare un gioco vincente di squadra quindi il modeling all'interno del gioco potrebbe essere l'educatore che è un esempio da copiare perché è uno che sa giocare bene che sa fare bene un determinato gioco poi c'è lo scaffolding che è praticamente la capacità di utilizzare e arviare le competenze diciamo così delle attività che si stanno facendo ma anche e non è un dettaglio da poco la capacità di rimettere bene in ordine il gioco una volta che si è terminato perché l'ordine esterno è anche l'ordine interiore quindi quando noi abbiamo finito di giocare è molto importante anche rimettere a posto il gioco in modo tale che non manchi niente che tutto sia al suo posto nel momento in cui torneremo a giocare nel modello dell'artigiano questa terza parte lo scaffolding riguarda proprio offrire i supporti perché anche l'ambiente sia un ambiente ordinato dove avvengono le attività di apprendimento e il materiale di lavoro abbia un suo ordine logico e strategico per essere utilizzato al meglio da tutti i bambini poi c'è l'attività di coaching quindi saper sostenere saper incoraggiare saper dare istruzioni che in qualche modo è anche legata alla quinta parte cioè la parte del fading cioè quella della quella capacità dell'educatore o dell'insegnante nel caso appunto del modello dell'artigiano all'interno di quest'opera dove si parla appunto di insegnanti quella capacità di dare sostegno aiuto ai bambini che stanno che stanno giocando che stanno facendo un'attività ma nello stesso tempo anche distanziarsi far sì che abbiano quelle competenze quegli strumenti per giocare in autonomia e sperimentarsi da soli nell'attività che devono fare l'educatore o l'insegnante sono lì presenti però mantengono le distanze perché vogliono che i bambini si appropriino delle loro capacità le sperimentano e godano delle proprie capacità quindi anche all'interno del gioco un buon educatore è colui che sa prendere le distanze eppure essere anche presente all'interno del gioco faccio un altro collegamento con il metodo Foyestain perché noi all'interno del metodo Foyestain questo fading diciamo ce l'abbiamo dentro un concetto che si chiama gradi di mediazione cioè noi diamo un'attività metacognitiva al nostro discente ma il bravo mediatore è colui che piano piano sa prendere le distanze distanziarsi e far sì che la persona autonomamente svolga l'attività e goda delle proprie abilità nello svolgere l'attività quindi è molto importante anche dare questa dimensione ai bambini cioè la capacità di appropriarsi dell'attività che stanno facendo in questo caso del gioco andiamo sull'ultima slide che è la slide di chiusura così poi lasciamo magari spazio alle domande o a qualcuno che vuole fare qualche riflessione abbiamo scritto imparare giocando è un'opportunità per provare piacere ad apprendere l'educazione diventa benessere per chi la riceve ecco io dico anche benessere per chi la dà perché se noi siamo sereni nell'educare i nostri figli e non abbiamo l'ansia non abbiamo l'angoscia come magari molti genitori in questo periodo hanno per tutta la situazione così drammatica e così incerta che abbiamo attorno a noi ecco avere il benessere nell'educare è molto importante perché anche i nostri figli possano provarlo questo benessere se i nostri figli sentono che noi siamo agitati sperimentiamo l'ansia sperimentiamo l'incertezza loro stessi non troveranno sicurezze loro stessi avranno magari dei problemi nelle sicurezze dell'apprendimento che invece hanno bisogno di avere ognuno poi giustamente sceglie il percorso che meglio crede se continuare a mandare a scuola i propri figli oppure se scegliere magari per quest'anno l'educazione parentale perché dà più garanzie o sicurezze quello che noi stiamo facendo è darvi delle idee speriamo buone per supportarvi in una situazione dove comunque sia dove i bambini vadano a scuola sia dove i bambini rimangano a casa ad apprendere con i genitori che si occupano del loro apprendimento in tutti e due i casi io ritengo che c'è molto bisogno di supporto ai genitori in termini di creatività e di originalità per l'apprendimento in questo particolare momento anche perché ci sono stati così tanti mesi di vuoto scolastico che hanno sicuramente lasciato il segno quindi più riusciamo ad essere creativi e noi che siamo operatori dell'educazione darvi suggerimenti per essere creativi nell'educare e più credo che facciamo rete per dare ai nostri studenti ai nostri alunni quello che hanno bisogno di avere per apprendere appunto nel pieno benessere spero di essere stata il più esaustiva possibile abbiamo delle domande Francesco scusami stavo parlando da solo domandavo se ci sono delle domande o delle riflessioni se qualcuno ha dicevo che ad ora ad ora non ci sono domande direi che possiamo tranquillamente eventualmente rispondere per mail dovessero arrivarne o comunque direttamente nei commenti cosa ne pensi sì anche magari tu cosa pensi di quello che ho detto arriva qualcosa molto chiara all'esposizione originalissima l'attività per affrontare l'ortografia in modo giocoso concreto e manipolativo che spesso è più incisivo di molte parole e complimenti grazie grazie abbiamo lavorato tanto per darmi questo webinar molto graditi questi complimenti allora la cosa la cosa che volevo che volevo aggiungere io era era molto come dire molto pratica mi viene da dire nel senso che effettivamente il giro nell'orto è un gioco che non conosco da tantissimo tempo devo devo essere sincero però è un gioco che effettivamente è ben equilibrato sia nella parte didattica ok quindi tutta la parte appunto di ortografia eccetera eccetera ma anche tutta una parte emotoria una parte anche divertente e competitiva che lo rende proprio uno strumento insomma ben fruibile in tante situazioni quindi sia a scuola che nell'homeschooling che magari anche banalmente in un pomeriggio di gioco tra bambini insomma quindi insomma bene poi tutta questa parte che hai aggiunto tu legata al mondo della metacognizione i collegamenti con Feuerstein e tutto il resto sono assolutamente molto interessanti soprattutto a mio avviso per la parte di programmazione nel senso che quando si va a utilizzare prodotti come questo gioco è sempre difficile capire come andare a proporli ad esempio in classe ok o come andare a proporli a un bambino per fare una qualsiasi attività e alla luce invece delle funzioni cognitive su cui Feuerstein ha lavorato per tantissimi anni insomma anche tutti questi prodotti prendono prendono sicuramente una luce diversa ecco quindi grazie bene io ringrazio anche tutti gli autori che abbiamo citato in questa diretta Facebook che abbiamo dai quali abbiamo attinto riflessioni idee e speriamo che questo condensato di idee di riflessioni che questi autori autorevoli ci hanno dato sia un contributo importante significativo e soprattutto di grande sostegno a tutti i genitori che scelgono coraggiosamente di fare l'educazione parentale voglio dire un'ultima cosa in merito ai costi dell'educazione parentale perché non sono solamente costi diciamo di tipo monetario ma sono anche costi in termini di sacrificio cioè dei genitori che scelgono l'educazione parentale decidono di sacrificare se stessi e il loro tempo tanto del loro tempo per i loro figli e sicuramente diciamo il costo più importante è quello di decidere per quanto riguarda la propria occupazione lavorativa come organizzarsi in merito perché c'è chi decide di non effettuare un'attività lavorativa per dedicarsi all'educazione dei loro figli dei propri figli c'è chi decide di fare il part time chi decide di posizionare le proprie ore di libero professionista all'interno della giornata in modo tale da garantire comunque l'educazione nei momenti utili della giornata ai propri figli insomma sicuramente un costo importante ce l'ha il tempo dei genitori perché devono fare delle scelte lavorative e di tempo per poter dedicare ai loro figli quello che serve per essere istruiti bisogna un pochino diciamo soppesare benefici e sacrifici diciamo io credo comunque che sia sempre una scelta bellissima quella dell'educazione parentale nel momento in cui ci sono delle incertezze che i genitori alle quali i genitori non riescono a trovare risposta noi ecco continuiamo a sostenere i genitori che fanno questa scelta rispettosi di tutti gli altri che invece decidono di proseguire il cammino scolastico quello che diciamo è che siamo disponibili a mettere a disposizione tutte le nostre competenze in termini di professionalità e materiali per chi ne avesse bisogno e quindi ci trovate sempre a www.sviluppocognitivo.it e fabbricadeisegni www.fabbricadeisegni.it ecco possiamo dire anche che questo gioco orrori nell'orto è acquistabile nel nostro sito sì assolutamente è acquistabile nel nostro store online ma soprattutto in tutte le librerie e le giocherie italiane e ci tengo molto a sottolineare che è appunto ben distribuito soprattutto nelle librerie anche perché anche per loro è un momento insomma di difficoltà ma in qualche modo anche di ripresa quindi andate in libreria insomma bene allora ci sono nel frattempo delle altre domande oppure le lasciamo la meditazione successiva che poi possono giungere per mail esatto altre domande ad ora non ce ne sono quindi direi che possiamo salutare e grazie mille Nicoletta a martedì prossimo a martedì prossimo sveleremo presto il prossimo nome della prossima diretta facebook comunque sempre sull'educazione buona serata a presto buona serata a tutti